Siamo con Mr. De Andrade, una vittoria ottenuta l'ultimo secondo, una pala sport bollente, la sua squadra insomma proiettata verso la Serie A2. Ho messo tanti argomenti, vada lei insomma. Sì, ci ringrazio per i complimenti perché sapevamo che oggi era una partita difficile, perché abbiamo affrontato una squadra che è quella squadra più in forma del campionato adesso, che ha fatto i punti pesanti, i punti importanti e perciò questa vittoria di oggi non sono tre punti, sono sei punti. Una vittoria questa qui conseguita da parte della vostra squadra, forse con l'uomo che magari meno vi aspettavate, perché insomma andando a vedere tra coloro che hanno segnato più gol, l'autore della tripletta era quello che aveva segnato meno, Sì, noi per fortuna abbiamo i giocatori che stanno tutti in grado di insegnare e oggi ha toccato a lui. Come avete visto qui il campo in quel di Forio? Fino adesso è quel campo più bello da giocare, che è sempre pieno, con una tifoseria che tira sempre la squadra su. È piacevole giocare qua e vincere, meglio ancora.